Il ponte Morandi non c'è più, è stato abbattuto questa mattina alle 9.39. Pochi secondi, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 ed 11 hanno fatto collassare la struttura ancora in piedi dopo il disastro dello scorso agosto che aveva provocato la morte di 43 persone. Tra le vittime anche due giovani, Aretini, Stella e Carlos, di 24 e 27 anni. La coppia stava attraversando quel tratto per dare inizio alla propria vacanza. Adesso, dopo la demolizione, può partire definitivamente la ricostruzione del ponte. La consegna dell'infrastruttura è prevista per la fine dell'anno, l'inaugurazione nella primavera 2020.